Il 18 aprile a Campobasso si è svolta la prima tappa della nostra campagna nazionale e sono manato anch'io la mia salute a me di tutti. Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi e confrontarci con le istituzioni sul grave momento di crisi che sta vivendo il servizio sanitario regionale molisano. Un servizio sanitario che fa i conti con 8 anni di tagli lineari alle risorse economiche, umane e strumentali. Abbiamo potuto vedere che l'ospedale Cardarelli, il principale ospedale molisano, non ha le sedie a rotelle per i pazienti che devono svolgere visite e analisi. Un tuo contributo è fondamentale perché la tua salute è un bene di tutti.